Reduce dalle fatiche di Roma, l'abbiamo qui, Giuliano Di Nicola, fresco campione italiano, tre campionati italiani vinti negli ultimi quattro anni, davvero il top. Peccato, la ciliegina sulla torta poteva essere il mondiale in Italia a Roma, insomma, sei arrivato terzo, però una soddisfazione davvero importante per te, in un anno davvero magico. Sì, un anno magico perché in Italia ho vinto tutto praticamente, ho vinto il campionato italiano appena finito, la classifica generale che è individuale, quindi sarebbe la somma di tutta l'annata, da ottobre a giugno, quindi primo anche lì, e primo con il campionato a squadre, quindi lo scudetto tricolore anche a squadre, con la mia nuova società, Boville di Roma. Resta per te comunque la grandissima soddisfazione di essere il re in Italia e quasi nel mondo. Sì, sì, quest'anno re in Italia, quasi nel mondo, perché purtroppo a Roma ho fatto terzo al mondiale. Dico purtroppo perché si parte sempre per vincere, però in effetti è una medaglia di bronzo che comunque dà gratificazioni. Sì, per me è una grossa soddisfazione, annata fantastica, come comunque negli ultimi anni. Si avvicina molto all'annata del 2012, dove oltre a tutti questi titoli che ho conquistato quest'anno, era arrivato anche il mondiale a squadre in Argentina. Quest'anno ci è mancata questa piccola ciliegina.